ero convinta di aver fatto una pillola sulle polarità invece sono andata a riguardare in questi giorni e non c'è sono tra le cose che più ripeto sicuramente anche nelle sessioni individuali di conseguenza ero convinta di di averla fatta e quindi approfitto di questo spazio assolutamente per farla e spesso sento ripetere che noi viviamo in una dimensione duale questo è assolutamente vero ma che cosa vuol dire una dimensione duale diciamo che va molto al di là di un concetto new age della separazione della dualità che ci sono due dimensioni eccetera eccetera va molto al di là perché la legge delle polarità è la legge che domina e conduce l'universo che cosa voglio dire con questo non voglio passare a un trattato di fisica ovviamente ma le pile più meno ok questi sono i principi per i quali tutto si muove quindi io non lo so se solamente nella nostra dimensione che noi percepiamo perché siamo noi ad avere delle percezioni limitate di quello che c'è basti pensare per esempio agli animali che possono cogliere gli infrarossi e gli ultravioletti gli ultrasuoni e gli infrasuoni che cosa vuol dire questo che vanno al di là le loro percezioni vanno al di là delle frequenze che noi possiamo percepire come esseri umani quindi siamo limitati in questa esperienza quindi questo non vuol dire che l'esperienza è limitata a noi alla nostra percezione ma ben altro l'esperienza è immensità e la fisica quantistica ce lo raccontano cosa ci racconta ci racconta del fatto che l'osservatore sta condizionando la realtà ma la realtà non è quella che noi vediamo o non è quella che noi percepiamo di conseguenza e qui sta il passaggio dall'antropocentrismo cioè dal mettere l'umano al centro di tutto come dio dell'universo che non è qui dobbiamo passare a mettere al centro di tutto il sé e che cos'è il sé sia non un frammento divino non è dio è un suo frammento e quindi il sé si inchina a un mistero più grande al mistero di dio come conduttore di tutta l'esistenza e ci inchiniamo al fatto di non sapere qual è questo disegno più grande perché la nostra percezione è limitata e questo è fondamentale nei tempi che viviamo lo dobbiamo assolutamente accettare comprendere questo abbiamo un'idea reale di quello che sta accadendo no abbiamo delle risposte no abbiamo 100 miliardi di supposizioni l'essere umano è favoloso nel fare supposizioni il primo accordo di José Miguel Ruiz dice non fare supposizioni secondo è nulla è personale ma il nostro ego è talmente grande che tutto ciò che accade sicuramente contro di noi e se non fosse così ora mi sto sviando dal tema delle polarità ma vorrei tornarci le polarità sono queste due fazioni chiamiamole così il ying e lo yang diecimila anni fa forse è stato definito dai cinesi nulla di nuovo conosciuto dai tempi dei tempi e nonché conosciuto da tutto l'universo dai tempi dei tempi quando ancora neanche esistavamo nel come forma pensiero quindi questo che cosa significa significa che questo più questo meno che insieme uniti creano il tau la luce l'ombra il maschile il femminile il bello il brutto il giusto e lo sbagliato l'universo è neutro nonostante si muova attraverso il movimento la contrazione la e l'espansione di queste polarità che creano la vita che creano qualunque tipo di forma esista che creano la materia oscura che è l'ottanta per cento mi sembra dell'universo e un venti per cento di materia luminosa come noi possiamo in realtà credo che sia un quattro per cento non venti perché poi ci sono altri tipi di e chiamate materie ma antimateria e quant'altro non sto a entrare adesso in una specificità che non è tema di questa pillola ma l'importanza di creare il neutro e che cosa sarebbe questo neutro ricordandovi che non esiste una misura standard delle due parti cioè non è che devono essere 50 e 50 non è detto si muovono continuamente creando questa contrazione questa espansione continua no come il battito del cuore tutum tutum si contrae poi rilascia il sangue poi lo riattrae creando questa pompa che ci dona la vita non c'è un meglio un peggio la luce non è meglio dell'ombra l'ombra funzionale alla luce come la luce funzionale a guardare l'ombra per cui questo neutro che si crea nel mezzo che cos'è se non il vuoto e cosa c'è nel vuoto che noi tanto rifugiamo mettendoci da un estremo dall'altro preferendo stare da una parte o dall'altra invece di praticare l'accettazione di ciò che è così com'è cuore quarto corpo corpo spirituale connessione con dio con la vita con l'amore con qualcosa di più grande che ci conduce tutto funziona per polarità noi siamo soggetti al movimento delle polarità perché come nel piccolo così nel grande per questo la natura ci insegna che noi abbiamo nel frammento l'universo intero ogni frammento contiene l'universo intero quindi è meglio il maschile del femminile è più forte il femminile del maschile perché sono un corpo di donna allora devo lavorare solo sul femminile se sono uomo allora devo lavorare solo sul maschile dipende qual è la polarità che è squilibrata non so se voi conoscete la storia e vi invito ad andare a cercare il mio vicino di casa il conte Cesare Mattei abbiamo questa rucchietta meravigliosa qua nell'Appennino a 45 minuti più o meno da Bologna il conte Cesare Mattei ha una bellissima storia vi invito appunto ad andarvela a leggere perché era un alchimista fondamentalmente suo padre aveva fondato la Carisbo di Bologna era un bancario lui lavorava in banca quindi anche il figlio e improvvisamente la madre si ammala di tumore e in questa malattia in questa degenza fino alla morte perché non la riesce a salvare lui cioè il figlio Cesare inizia tutti questi studi per dedicarsi alla cura della madre e si accorge che probabilmente la sua vocazione non era di sicuro la banca fare il bancario ma fare il medico medico sicuramente alternativo cioè gli antichi alchimisti erano non certo laureati in medicina o magari alcuni anche sì ma erano i maghi quelli che interiormente avevano questa conoscenza attraverso il pensiero analogico e quindi il ricordo di informazioni preziose che riguardavano l'interiorità umana e che di conseguenza connettevano i mondi quindi il mondo fisico, il mondo sottile, energetico, emotivo, mentale eccetera comunque non mi sto dilungare ma il conte Cesare Mattei inventa l'elettromeopatia l'elettromeopatia era basata, è basata di fatto proprio sul riequilibrio delle polarità cioè quello che lui scopre è che lo ricorda più che altro è che all'interno del corpo umano la malattia si dà per uno squilibrio energetico delle nostre polarità un po' un ritorno in un modo diverso se vogliamo alla medicina cinese per cui preparava queste pozioni, questi preparati appunto queste medicine preparate da lui e cariche elettricamente quindi avevano il meno, il meno meno, il più, il più più e il neutro quindi in base a quello che la persona presentava lui mischiava o dava questi preparati per ristabilire nel corpo l'equilibrio il giusto equilibrio per quel corpo delle sue polarità lo zardi russi e la principessa Sisi tantissime persone accudivano a lui per essere curate non possiamo andare contro la vita possiamo imparare ad utilizzarla come biologa sono estremamente appassionata del movimento della natura perché la natura ci insegna come siamo fatti ci insegna come funzioniamo ci dà l'esempio da seguire se vogliamo stare bene e ritornare in contatto con la naturalità di noi stessi prima di tutto e delle cose intorno a noi e quindi del cosmo intero di conseguenza non c'è una legge che va bene per tutti ognuno di noi ha una storia personale diversa una situazione interiore diversa un terreno diverso e quindi ogni persona ha un mondo un universo a sé e noi lo dobbiamo guardare con occhi di stupore esattamente come dovremmo guardare noi stessi per riuscire a scoprire senza troppi sotterfugi mentali senza troppe modelli e tecniche che cerchiamo di incastrare dentro di noi magari non sono le nostre non vanno bene per noi esistono miliardi di opzioni stiamo aperti a tutte queste ma non andiamo contro le leggi naturali dove c'è tanta paura c'è anche tanto coraggio per poter attraversare quella paura dove c'è tanta rabbia c'è anche tanta forza vitale che ci permette di liberarci da ciò che ci ostacola nell'espressione di noi stessi e così via in tutte le cose perché dietro le ferite c'è un dono? perché le polarità meno e più sono connesse continuamente noi non ci possiamo staccare da qua ma ci possiamo muovere come lago della bilancia imparando a farlo perché noi dobbiamo imparare a muoverci in questa vita non lo sappiamo fare ci hanno dato un'astronave come mi piace chiamarla a me questo corpo e questa dimensionalità che non è da meno delle altre perché se noi impariamo a usare le polarità dentro di noi io vi assicuro che i salti quantici a dimensioni molto più elevate sono possibili all'interno del corpo fisico e in vita non aspettando la morte non aspettando il paradiso o gli alieni che verranno giù e ci salveranno tutti noi abbiamo delle potenzialità enormi dobbiamo imparare ad usare questa nave grazie a tutti